Un bel saluto a voi tutti, che è il piacere di trovare una bella stua Un bel saluto a voi, che è il piacere di Nani Pellegrini, che è il piacere di trovare una bella stessa Un bel saluto a voi, che è il piacere di trovare una vita e un impegno del campo e del settore della cultura e del mondo ladin Sarò il tutto mingolente per capire qualcosa di più che magari la tua presenza pubblica, se potessi dire così, non ha mai fatto vedere, non ha mai rivelato In dena Nani si cominciasse da andare da questa bella stua, l'hai voluta e pensata tu, che è la stua ladines da in lotta? No, l'hai stata pensata, mi l'hai voluta, ma l'hai stata pensata e arrivata da mia famiglia La mia famiglia era un palino, come si dice, di architettura interna L'hai stata pensata che ho fatto l'accesa, non la mia stua, ma l'hai studiato, l'hai studiato, l'hai studiato, l'hai studiato, l'hai studiato, effettivamente si sta bene Nani, se con i nostri anni dicono, che misurano la fiora a chi è la dins da Soramont, cosa stai? Ecco, noi sono da Nani ultimamente, al manco mi stas, è da Nani buo l'idea che se noi perdono il colliamento con gli altri ladines sia dal punto di vista dell'informazione e anche televisione, sono destinati alla deriva, come si dice e da questo punto di vista mi sono veramente contento e penso in quei altri che le televisioni delle Valladine si occupano in cinque più, diciamo, della nostra situazione Voi saprei che l'ha fatto questo referendum e naturalmente noi speriamo che il referendum non sia una cosa succhata ma che la vada in avanti ma sappiamo che le certe difficoltà per si in avanti, ma non speriamo di deducere e si batteremo per questo Il referendum che è stato riconosciuto per tutti gli altri, come un pezzo, un collo, un referendum che è stato riconosciuto per tutti gli altri, come un referendum che è stato riconosciuto per tutti gli altri che è stato la spartigione dell'Aladina, no? Sì, sì. Così da Nani? Sì, il nostro referendum non era su basi economiche o di opportunità, ma era effettivamente di appartenenza storica e culturale al gruppo di Mendranza che è il nostro ladino. e voi sapete che adesso l'estate, vengono fuori, in questi ultimi anni, in molti altri comuni giù chi l'ho che voleva chissà dichiarare l'Adins, no? Da voi che noi siamo fatti il referendum e ultimamente l'encenza di tutti i comuni che vuole domani con la provincia di Trant, no? che ti te sass benissimo. E in nota il nostro... Non, Nani, Foss, su questo, no? Già volevo deschiarirmi in gol per tutti gli altri che la motivazione di chi si tratta i comuni l'Adins le s'è desvalive, desferente da quelle dietro i comuni che domani devono contrarre. No, completamente diversa e non spero che queste ragioni le siano importanti insomma per poter passare perché se no ci vede lì il referendum, no? Quelle economiche le dute e nauda il discorso, mi capisce, è incequale, no? Che l'estate, come si sa ben, che nella regione di Trant, c'è la dute e nauda standard di, diciamo, di finanziamento e di vita. Invece noi, no, che noi, i tre comuni, c'è l'Unione Ladine, c'è proprio sottolinea che le nostre ragioni non è cale economiche, perché, insomma, non si sta mica melghi dal punto di vista... Però noi, per mantenere la dignità, per mantenere la nostra appartenenza, mon son, fa in cin di blu per poter, effettivamente, si andare avanti. Adesso, voi sapete che la regione del Veneto l'ha detto che il referendum, ok? L'estate è rispettato, vedremo se a Roma il fesce altrettanto. E nota, adesso l'altra vare che le da fa, che le cal forse più importante, le da vedere se è la che si vuole gi, insomma, siamo benvenuti, perché se no se torna a Andrillo, ma spero proprio di sì. Una partita che mi viene per voi adesso ad assaggiare il sudesco di Busan nella regione. Sì, 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 sì. Adesso credo che i tre comuni si vanno fuori, no? A una, magari, con i rappresentanti, chi che è avanti al comitato della consulta per il referendum, ma spero che i vanno fuori adesso a scoprire proprio questo problema qui lì con la provincia di Busan. Ma il fatto, ad esempio, che Borcia, che i tre comuni del Chadorin, abbia fatto sì questa ragione della dignità, che vuole creare, diciamo, il fatto di venire sull'Ega problemi? Sì, come no? Soprattutto, adesso, ultimamente, che anche le ducche comuni, si tratta su delle cose, su Falcade, su fino a Serena del Grappa, gli ha fatto domanda di passare con la provincia. In caso, è un disturbo sicuro per poter fare in avanti il nostro referendum a Roma. Ma, se saranno da fare, insomma, si saranno giù, si saranno giù una rappresentanza a Roma a spiegare le ragioni nostre, che non è compagno del quale degli altri. Insomma, ducche fiducioso che la vanno in avanti. Ma, l'unica cosa importante è l'è adesso, dato che la Venezia l'ha detto ok, che effettivamente la regione, la che si vuole sì, che si è ben d'accordo delle Netoite. Spero di sì. Nani, in conto di questo, che aiuta per aspettare dagli altri ragioni laddini, della Dolomites, della Val di Fascia, della Val Gardina e della Val Badia? Ecco, certo, e noi ci aspettiamo veramente, perché con Daniela ha detto che noi appartigliamo ai laddini storici del Sella e che, in sostegno dal punto di vista dell'informazione, soprattutto, come che facciamo adesso, di far sentire il nostro problema, le nostre ragioni, là fuori, ante le altre valladine, che è importantissimo, perché se no, come facciamo usare a Bolzano? La rai laddina, diciamo, la generella è importante per noi, per poter portare avanti il problema. Ci tocca vedere il sistema entier della laddinnità, da me, dal nostro punto di vista, no? E non c'è perché? C'è perché c'è venuto fuori il fatto che pesa troppo, voi, se non fuori la uscita di laddins, quel foglietto che è riuscita a cese da tutta la laddinnia, eccetera, la provincia di Belun, ma noi abbiamo accesso a qualche servizio di informazione radio televisiva pubblica, no? Eh sì. Cos'è per noi, grazie, al manco mia, la dagnara ha detto, è la roba più importante, perché la dagnara ci ha stimolato ancora adesso le amministrazioni comunali, perché ci sono dei bussini, la domande sui ripetitori, lo sai, per capire tutte le trasmissioni, in circa l'Austria, eventualmente. e il lo, naturalmente, è una gran spesa da portare in avanti, i comuni sono d'accordo con la Fema, e adesso ci ha per i finanziamenti, insomma è che vuole 3 o 4 mila euro, per tutti i ripetitori, per tutti e tre le vali, no? Perché le vali sono estrenti, e adesso ci ha detto, i comuni hanno detto, non sono metto il programma di finanziamenti dei fondi branchier, non metto questa roba. Allora i fondi branchier, non si sa neanche che anche i ruoli, però se i ruoli, pensi che i farà. Nani, reso non di velcro d'autor, per egna, alla Longia, ti è stata Presidente dell'Unione di Ladins, da Fodom. Per te, diciamo, la dignità, che valore è la che? Il mondo è un'engazza, una rei di rapporti, una vita di essere, che valore d'este? Ma a mia, Dagnara Cardu, che è la mendranza ladina, abbia le sue caratteristiche storiche e culturali, che le può, non la nemmeno vedere con le altre mendranze. Anzi, penso che l'ha una storia, beh, Longia magari non l'è tanta, ma insomma, l'ha una storia ricca di informazione, di sostegno, e così che, noi, Ladins, insomma, cerchiamo di, di vedere, di portare avanti questo, questo, questo programma, no? e, la, la dignità, è sicuro, una roba che, noi, proviamo di mantenere, chi lo ha al manco, voi sapete che le tante difficoltà, perché, anche se siamo partiti fuori così, la Regione Veneto, non ha neanche, che non ha avuto grande attenzione, a queste cose, perché, forse perché, che aveva due schiautri, la dignità, che veniva fuori, per cui, insomma, e dopo, non credo che la Regione Veneto, abbia avuto tanta, si abbia stato, tanto contenta, che noi, con la, con la, con la, con la provincia di Bolzano, che si può non cercare, no? Però, ho il referendum, quindi, spero, così. Tanto, tra la provincia di Trenta, che è la, di Busan, il, laddino, che l'ingazza, che il nostro, bel l'ingazza, il venne, tenne su, il venne, insegnare, la scuola, il venne, stravardà, e la, nascondanza, piuttosto forte. Eh sì. E chi ho da vosso? Invece, chi lo ha da nosso, non è così, le calche ne mancia proprio la scuola, ne manceva l'informazione, no? per tenere su questa roba. fin adesso, noi non abbiamo la possibilità di introdurre il sistema scolastico, in ora, in ora della DIN. L'è stata fatta per diversi anni, con delle ore, che anche levano la Teresa, a Pizzei, che la sedeva tanto a Fè, allora, l'aveva introdotto dalla, un'ora di, un'ora della DIN, del Fodom, un'ora della cultura, etc. Adesso, l'unica roba che ho un po' di Fè, lei attraverso l'istituto culturale DIN de Col, di Fè, per esempio, dei corsi estivi, no? e qui vengono fatti duc per la DIN, no? chi lo ha Fodom, per Fodom, cortina, per ampezzare, e col Fodom. tutti i tuoi sacchi, io l'ho, e penso che li vengono portando avanti, anche questi anni che vengono, la famiglia è contenta, magari perché li si liberano, dai fiochi, per gli stessi, però non è questo problema. E tu, non è che si cominciava, a te appassionare, a te, a te, a te l'impegno, per la causa DIN? Ma io si cominciò, forse, con, in prima, dal punto di vista, diciamo, musical, no? e l'ho, metto a, così, a scrivere incin, delle musiche, poi, per la ragione, ho metto, delle musiche, delle ciancione, delle musiche Fodome, e adesso, è un progetto di fare, effettivamente, una pubblicazione, non so se posso dire, con pubblicazione sulle, le musiche sacre e profane, della nostra Valma, in Fodom, tutto in Fodom, che ne tante, ne tante, che io l'ho, che non le vengono utilizzate, quello che ho fatto, ma anche, delle altre, che, 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 se non, se non le sembra, non può essere perduta. Ecco, per la causa laddina, ma mille dagnare la portata in avanti, lo sapevi che mi sostegno dagnare per la mia professione con la Commissione Europea, per diversi anni nel centro di ricerca, ma mi ha veduto che io, perché sono in contatto con tutte queste nazionalità, e io ho capito che non sono tutta il diritto, la cultura, il poder estero, adesso si muove fuori, quindi la laddina, capito che Chilonte, le nostre valle, è una delle cose importantissime per conservare la nostra cultura e la nostra tradizione. Tu hai ragionevole un anno di tuo impegno che è stata nella Lombardia, a Varese, e questo centro di ricerca per la Commissione Europeana, e allora ti senti lasciato una parte della famiglia. Eh sì, è vero, ma mia famiglia è olandese, perché sono state in centro che ride, dagnare della Comunità Europea, ma in Olanda, no? E lì ho avuto i reattori nucleari, no? Che vanno a essere trasferiti all'industria, e mi mi occupi dei materiali per la stagione. Dopo, invece, sono mai sposti giù a Ispra, che è il centro più grande, là che vengono fatti ambienti, vengono fatti energie rinnovabili, vengono fatti ancora sicurezza contro i terremoti, e se no, vengono mette su un'accesa, no? Che vibrava tutta, notte stesse, è una roba divertentissima. E così, dopo, sono anche su pensione, sono qua e ho detto, vabbè, insomma, vedo un sede di Kencing, problemi più picchi, magari, no? Però, ancora più interessanti, forse. La vita è buon piena, no? Sì, no, no, perché sì, perché sì, 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 no, sono il centro direttore dei famosi Ispra Cursi, no? Ispra Cursi, allora, leva dei corsi che si facevano per specialisti dell'amministrazione, dell'industria, mettono nessuno, no? E io ho un buon dei grandi contatti, ho fatto nei diversi libri che ho scritto nel mio studio, e in questi contatti, io ho avuto avuto con varie personalità, sì, come Saban del Mas, Baladur, Prodi, e questi che ho, no? Sì, questo è interessante. Sì, questo è buon da fare, e dopo, dice, degli ultimi segni, giusto, per una ernia da fare, ti spiace anche, che forse Fodome abbia bisogno di mettere su una musica di gioia, no? Sì, sì, anche chi lo ha, ti rubete. Sì, Fodome ha una gran tradizione musicale, no? Perciè che i diversi cori, i 14-15 cori, che aveva bisogno di mettere in avanti da tanto tempo, ma mancava una musica, e mi ricordo che, in stimolo per me, santo ci che l'estè, per mettere su la musica. L'herò è in via della banda di Moena, giù un plazzo della Plie, e mi sarebbe buo sette anni o sette volte anni, no? E a fare delle cale suonate, mi sono restato là proprio così, e questo mi aveva bisogno di mettere in testa, e dopo lo metto da su, e adesso sono contento, perché molti elementi avevano quasi una sessantina, la banda normale che saranno di 35-40, e che altri saranno di una ventina dei picchi che fa questa minibanda che separa ciò per venire dentro la grana. E questa è effettivamente una sorpresa, su questo la mamma ha dato tanto la fame nella sala, tanto impegnato, un indiretivo, naturalmente, della banda, c'è la Tiziana, Soltroi che ne dai da provo, insomma un indiretivo, e adesso ho venito in questo diretivo, per fare programmi, per vedere ciò che ci strumenti che siamo messi a comprare, e adesso, come premio, insomma, ho pensato di fare una trasferta in Olanda. Ah, addirittura. Ah. Allora ero in classe, la famiglia che ho organizzato, e io ho faccio un concerto per fare un giro. Con i contributi della Regione Veneto mi faccio un'esperienza di vita Presidente dell'Unione Generale di Laddins, della Dolomites, l'estate che era la sezione del triunvirato, no? Sì. 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 Con i finanziamenti del rappresentante per ogni valeta. Che ricordi hai da quel tempo? Ma a me è tanto voluto, no? Ecco, è tanto voluto di dire, beh, non si è fuori in cinque, no? Perché avevi magari un Presidente che non gira, e che, sì, non gira, ma insomma, come non so se aveva un input più grande, allora non pensate, beh, su questa specie di triunvirato, ma ti rappresento anche in maniera se discorre fuori. E adesso andando avanti, per un po' di tempo, l'uomo si discorre fuori tante delle cose, anche sulla storia dell'informazione, per esempio, perché l'uomo invece non è che un buo gran successo. Ma per me le tempi c'è che dopo questo si aveva sciolto, fosse pulito, se discorre di più, penso, tra le valle, dal punto di vista culturale. Sì, c'è un momento in cui è un momento sulla questione dell'Unione Generale, Nani, spero di dire che se la stessa zona fosse l'estate mingola per un'occasione per far fare un'auta di qualità, per proiettare questa associazione del da venire. Perché voi avete, non c'è idea innovativa? No, aveva l'idea di avere effettivamente più un input, perché naturalmente il Presidente che veniva eletto, i lo, le chi lo, magari aveva un'occasione effettivamente di discorre fuori di più. E questo penso che ci sia soprattutto per i nostri comuni, che sono piuttosto di staccare via da... E... però dopo... Sono Susanne in avanti e dopo... Non è più Susanne in avanti, le va. Io per me perché le va la Ilda Pizzanini, in lotta ancora, che le va... le va... le va Presidente della Generale. E adesso in che condico vai da te questo movimento interladino? Ma a me mi sa che non si è proprio un movimento interladino adesso, insomma, che voleva sapere che lo si è, no? Come che di già aveva... toccato perché... Come che adesso lo sei fatto... Vedi, avevi incinpluto informazioni su queste cose che loro... Perci che è un grande, grande bisogno, perché tra i comuni, sovradutti tra i comuni, non si sento veramente per me la ragione di staccare via, perché non ho un'informazione, non ho uno dei mail... Il giornale. E... E l'Unione Generale ha la tua esperienza? Da te in fuori che conoscerà a fare? Cioè, con l'unione i settori... Bisogna che la conosce possa secruire di più per trovare che il protagonismo sia anche la gente laddina che veniva a menciare? Ma non si adesso, per esempio, che anche l'està fatta come Presidente... o volon ve... o volon ve... In c'è nos, no? Che venne fatta un Presidente... In c'è desti tre comuni... Sono vestiti ma sono vestiti di mangane... Adesso l'è la essa. Certo che... Ma perche sia vencine... In c'è difficoltè portemmo avanti il discorso interladino, no? Perchè che... Lo saprei che insomma... Ogni val ha le sue... Le sue idee... E calchè... A noi non volonse più... Che... Valguin diga... Che questi tre comuni... Insomma... Ormai... Belli che tagliate... Dato che sono sotto la provincia di Bellum... Leste ditte... Magari... Non tanto di noi... Ma... De chi da cortina... Non è vero... Perchè che insomma... Se le valguin che dicono... Perchè che non... Insomma... I giovani... Perchè... Al manco... Chi che mi conosce... Chi lo... Non dica ducce... L'incalata magari... La... L'appartenenza... Perchè che proprio... Mangia... Mangia l'informazione... Mangia il colliamento... No? E questo... È un problema... E noi... Ma siamo riusciti... A insegnare... Al manco... Un'ora... A qualche scuola... Per mantenere la... No? L'istituto culturale... Il fesco... Ma... Ma... C'è il lo... E i finanziamenti... Non è che sia... Ma... Cerca di fare il possibile... Come questi corsi... Estivi... Per... Per il Fodom... Per l'Ampezzano... Per chi dà col... E pubblicazione... Il fesco... Naturalmente... E a chi che... Nani... A chi che dice... Che... Non è importante... L'Adin... Non è importante... Non è importante... L'identità... Ma è importante... Che si via... Che si via... Che si via... Che si via... Il turismo... Che fa azire... L'economia... No... Ma non crei... Mi crei... Se la gente... Si comincia... A se rendere conto... Che non è... Non è mai... Tutto caldo... Perché i soldi... Va bene... Ma insomma... Te mancia... Te mancia... Insomma... L'identità... La... Te mancia... Quindi... Mi penso... Che... Per esempio... Noi... Noi... Non so... Non sarò mai veneti... Noi... Da quel punto di vista... Con tutto il rispetto... Dicono... 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 Un sistema... ¿Come si dica? Un sistema... De pianificazione... Urbanistica... Dicono... Dicono... A... Cala... De Balsang e Trant... Ma... Bel bel adagio... Ma perché... Comencia ad venir presione... In sostanza... Passata tutta la cortina... Non è succeduta... Ma è... Noi... Invece... Ma... Mi creo... Che... insomma tra i comuni si può bene si difende ma per chi scomincia si difende per noi avevi 100.000 eccesi di seconda eccesi. Certo che sull'ambiente tocca stare attenti, per esempio dove si gestì le jäge davanti via. Dopo è venuto il BIM e il BIM non è più contento del BIM che l'ho, perché insomma paghiava le tasse del BIM e dopo gli acquedotti che trovava. Adesso insomma è anche se vuoi tornare in rio sarà difficile la gestione locale della jäge, che è una cosa importante. Forse c'è chi che mirasse e volesse una provincia, di nuovo una provincia della Ladinia, chi è di nuovo? Ah beh certo, mi sono d'accordissimo. Dite sa che adesso è la questione di voler la provincia di Belluma autonoma, no? E che naturalmente può essere per noi senza un problema per la storia del referendum, no? Perché lui dice ok, insomma si fa questa provincia con la specificità di Malgane, qualcuno dice ok, facciamo la senza avergli altri problemi di appartenenza con la Ladinia. L'impericolo per me è insomma, è insomma che la provincia ha lasciato il diritto per ciò che l'è tutta da monte, no? Quindi è sicuramente diversa da quello di Pianone su qua, no? L'ultima questione, Nani, viste più grande il pericolo che tutta la storia, tutta la tradizione, tutta la tradizione, tutta il canto viene disfantata o viste più grande l'opportunità e l'occasione della zona di zona, della neva, della fiorire della nostra zona dell'identità. Eh, quello non c'è, non c'è tanto da dire, non c'è mia in dubbio, no? Ma noi, per esempio, sono picchi e è un faccio referendum, ma penso che la roba più importante fosse ancora che in Televal, Ladine, da una strada di Ladine, no? Che i loro hanno venuto perduto dall'appartenenza, perché insomma le quelle in pericolo, no? Perché i Ladins, in c'è anche delle votazioni, dicendo che io ho poco da dire, in effetti, no? E io penso che tocca fare di più, insomma, perché noi non abbiamo da perdere questa minoranza, Ladine, dai, è una roba storica, è una roba importantissima, anche per il turismo, per tutto, quindi la sa, penso che magari fare di più e qualche, le da fare di più, effettivamente porti questi problemi davanti alla gente con dell'informazione, più più, più, più di quel che è un bufino adesso, penso. E te ringrazio? Te ringrazio a Timve, te ringrazio a tutti voi, te ringrazio a tutti voi, te ringrazio la RAI, la RAI di FASA, sovradutto dell'attenzione che la busso questi problemi, e spero anche che effettivamente voi potrebbero adegnare ancora, perché deve interessare di questi problemi di sovramonti. Ma bene, noi sappiamo che la questione, se non c'è, diciamo l'ultimo pensiero, che ti tirà fuori, quello di dire che se salvere, se salvere, se salvere, non è un messaggio che appartiene al passato, ma è sicuro un impegno per l'avvenire, e spero, dal buon, che tutti insieme si può migliorare questa coesione, che si sentire dal buon solo il popolo e una comunanza di mo' che hanno riladito. Eh sì, va bene, penso proprio così, insomma, e voi pensate che è una cosa importante da fare per mantenere questi progetti. Deve il paio a Nani Pellegrini e a Voduce il più bel salute, e se vedo un toast sempre qui, sempre con le tracce.